E' Admenta, la società che gestisce le 85 farmacie comunali di Milano e che vorrebbe recedere il contratto di Assofarm e applicare ai lavoratori quello delle farmacie private. Un cambio che si tradurrebbe, dicono le parti sociali, in meno tutele per i farmacisti e che riconsidererebbe la presenza stessa di 52 commessi di farmacia, il cui posto di lavoro potrebbe anche essere messo a rischio. C'è questo tipo di assemblea che facciamo oggi, sono legati al fatto di poter chiedere al comune un intervento più deciso affinché Admenta, che gestisce le farmacie comunali di Milano per l'80%, decida di mantenere il contratto di settore delle farmacie comunali e quindi a questo punto di cambiare idea per quanto riguarda l'applicazione del contratto delle farmacie private. I commessi sono stati dichiarati non utili, la figura del commesso non è più essenziale per l'azienda e quindi è stato detto che questi commessi nel giro di non si sa quanto comunque non dovranno più trovare posti in azienda e quindi sostanzialmente dovranno essere ricollocati in altra maniera o licenziati. Il comune di Milano, che detiene solo il 20% delle quote dopo la recessione di Admenta da Assofarm, fa la voce grossa e vorrebbe che qualsiasi decisione fosse da concertare anche con Palazzo Marino. La cosa che noi diciamo è molto semplice all'azienda, non vada avanti così come un pugile suonato, si sieda a un tavolo a discutere e il comune di Milano esige di avere questa opportunità di far valere come socio di minoranza e come rappresentante degli interessi della città il proprio punto di vista.